Federica Pellegrini è stata la prima ospite della nuova stagione del podcast di Diletta Leotta, intitolato Mamma Dilettante. La nuotatrice, affacciandosi agli ultimi giorni di gravidanza, ha condiviso apertamente dettagli sulla sua storia d'amore con il marito Matteo Giunta, il quale, essendo anche il suo ex allenatore di nuoto, inizialmente non credeva veramente all'amore tra di loro. La storia d'amore tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta ha avuto inizio nel 2017, dopo la fine della relazione di Federica con Filippo Magnini, cugino di Giunta. Nonostante abbiano reso ufficiale il loro legame nel 2021, tutti ne erano già a conoscenza. Nel 2022 hanno celebrato il matrimonio. Nel podcast, Diletta Leotta ha chiesto a Federica come è nato l'amore tra di loro, e la nuotatrice ha rivelato che dopo una lunga relazione precedente, ha iniziato a guardare Matteo con occhi diversi. Tuttavia, Giunta ha mantenuto un atteggiamento professionale inizialmente, temendo di compromettere la sua immagine da allenatore. Solo quando ha capito che la loro relazione era significativa, ha cambiato idea. Diletta ha posto anche una domanda scomoda su una possibile relazione tra la figlia di Federica e il suo allenatore, riferendosi alla storia d'amore della nuotatrice con Giunta. Federica ha risposto scherzando, evidenziando l'importanza dell'età della figlia in tale situazione. La sportiva ha anche condiviso dettagli sulla gravidanza, annunciando che il parto è previsto tra Natale e Capodanno. La madre di Federica spera che la nipotina nasca il 30 dicembre per condividere il compleanno, mentre il padre preferirebbe l'inizio del 2024, in un anno olimpico come quello in cui Federica è nata. La nuotatrice ha anche espresso il desiderio di partorire in acqua. Quanto al nome della bambina, attualmente chiamata affettuosamente, Meringa, Federica ha deciso di non rivelare ulteriori dettagli per mantenere il mistero. Ha condiviso il suo desiderio che la figlia diventi una sportiva, sottolineando i valori positivi che lo sport può instillare, come la determinazione, il sacrificio e la capacità di affrontare vittorie e sconfitte.